Il 21 aprile di un anno fa, la psichiatra pisana di origini seravezzine Barbara Capovani veniva brutalmente aggredita fuori dal reparto di salute mentale del Santa Chiara di Pisa dal suo paziente Gianluca Polseung, 36enne torrellaghese, oggi in carcere con l'accusa di omicidio premeditato. Presa sprangata in testa con 12 colpi di una violenza inaudita, morirà tre giorni dopo. L'arma però non è mai stata ritrovata. Nel primo anniversario gli amici e colleghi della dottoressa si sono ritrovati sul luogo della sanguinosa aggressione per un momento di raccoglimento e memoria, voluto anche dalla stessa ASL Toscana Nord-Ovest. Oggi è un anno che è trascorso dal giorno maledetto dell'omicidio di Barbara Capovani, l'amica e collega e oggi abbiamo voluto ricordarla qui proprio dove è il suo reparto in pochi, senza intromissione di altri. Quindi proprio gli amici, i colleghi più cari. Ecco, per colmare un pochino la tristezza di questo giorno, che insomma ci ha accompagnato per un anno intero. Insomma, oggi è sicuramente più intenso perché il ricordo è sempre molto vivo. In ricordo di Capovani, sabato in tutti gli ospedali italiani, gli psichiatri hanno lavorato con il lutto al braccio. La Società Italiana di Psichiatria in questi giorni ha inviato una seconda lettera al Presidente della Repubblica Mattarella con 450 firme per chiedere che sia aumentata la sicurezza sul lavoro per i medici. Dal dramma del Santa Chiara ad oggi, sottolinano gli psichiatri, non c'è stata ancora nessuna risposta concreta. Nostra madre diceva sempre di non avere paura di quello che faceva, tantomeno di aver paura dei suoi pazienti. Così i tre figli di Capovani hanno testimoniato mercoledì scorso in tribunale nel processo a carico di Seung. Il giovane, che si autodefiniva uno sciamano, venne arrestato nella sua abitazione di Torre del Lago pochi giorni dopo. Fu lui stesso a mostrare quel momento in una diretta Facebook. Nelle settimane scorse si è appreso che dal calcere di Livorno ha inviato una lettera farneticante indirizzata da una consigliera regionale della Lega con un'altra una lista dei femminicidi dell'ultimo anno.